Si avvicina l'inizio della nuova stagione calcistica e Italia dei Derby ha preparato per voi un nuovo format. Il nostro appuntamento del venerdì si chiamerà Minuto 45, con pronostici, statistiche e commenti agli appuntamenti di campionato e coppe delle nostre squadre. Interverranno, come è nostra tradizione, ospiti di grande livello tra firme giornalistiche e addetti ai lavori. Ogni mese, avremo poi il nostro speciale, dove affronteremo tematiche sportive a 360 gradi il tutto grazie ad un format innovativo. Ti aspettiamo!